Ciac Alfonso III. Siamo a Staiti, da dove abbiamo raggiunto Monte Cerasia, uno dei punti panoramici più belli dell'Astromonte, e stiamo tentando di seguire un bellissimo crinale che da Cerasia con Punta Capitano, Serro Elisabetta, dove siamo ora, scende verso la vallata tra Pirrapennata e Palizzi, dove confluiscono le due fiumare che poi creano la fiuma Rapalizzi. Basta così? E quindi? Infatti, io pure stavo dicendo, ecco me la chiusura! Ma mancava la chiusura! Signora, non vuoi c'è vino! 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.